Luca Tesconi, nuovo campione italiano nella pistola libera uomini, è la prima volta che vinci questo titolo, appena finito la gara, come ti senti? No, sto bene che finalmente sono riuscito a vincere il titolo, sono riuscito a fare le cose che di solito faccio in allenamento, ho tenuto duro tutti i 60 colpi e sono contento che finalmente ce l'ho fatta. Senti, la finale com'è andata? La finale è stata dura perché avevo vigilio a due punti, che a un certo punto ha anche rimontato, però ho retto anche la finale i 10 colpi e sono contento di aver mantenuto la mia media. Quali sono i progetti futuri? Spero gli europei a dare compressa e poi spero qualche coppa del mondo e di prendere la carta soprattutto. C'è un tiratore a quale ti ispiri? Il tiratore modello è sempre stato di donna, sia come persona che come tiratore, ci sentiamo spesso, mi dà consigli su qualcosa, su tutto, del tiro e anche altro. Vuoi ringraziare qualcuno per questa vittoria? Ringrazio il centro sportivo Carabinieri che mi permette di allenarmi, mi permette di stare bene e il tirassegno Pietrasanta che mi mette a disposizione tutti gli impianti. Grazie e in bocca al lupo per il prossimo anno. Crepi.